17 marzo 1938. Nasce su un treno, nei pressi di Irkutsk, Rudolf Nureyev. A 19 anni è già uno dei più grandi ballerini della Russia. Nel 1961 rifiuta il rimpatrio forzato da Parigi, impostogli dal governo russo. Rivedrà il suo paese solo nel 1989. Intanto diventa una stella del ballo anche in occidente, prima con la compagnia del marchese di Quevas, poi con il balletto reale danese di Eric Brun e soprattutto con il Royal Ballet di Londra. A Londra forma con Margot Fontaine una coppia destinata ad incantare il pubblico di tutti i teatri del mondo. Contrae l'AIDS agli inizi degli anni Ottanta e muore a Parigi nel 1993, all'età di 54 anni. Parigi, perso, perso.. Parigi, perso, perso. Parigi, perso. Perigi, perso io, perso, perso. L'accent n'est pas bien, n'est pas bon, n'est pas juste. Can we go? Front leg open, le jambe debondre. Super bien. One, two. One, two. One, two, three. Le petit test. And. Sonne. C'est bon. C'est bon. C'est bon qui ouvre les thank you. And. One, two. One, two, three. One. 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 One, two, three. One, two, three. One. One. Grazie a tutti. Grazie a tutti.